Sarà in primavera la svolta per l'accessione di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, tre delle quattro Good Bank rinate dopo il decreto del novembre 2015. Lo hanno riferito i principali sindacati bancari dopo l'incontro con Roberto Nicastro, presidente unico delle quattro banche Ponte. In una nota si legge che Nicastro ha confermato lo stato avanzato del processo di cessione della proprietà di tre delle quattro nuove banche. Entro l'anno in corso l'autorità di risoluzione che ne detiene la proprietà e il primario gruppo creditizio italiano più volte menzionato, UBI, dovrebbero sottoscrivere un preliminare di vendita, l'iter di cessione presumibilmente entro marzo 2017. Nell'incontro è stato affrontato anche il tema dell'occupazione. Secondo il segretario generale della Wilka si sta delineando una risoluzione stabile e senza eventi drammatici sul personale, in quanto ad eventuali esuberi saranno assorbiti tramite gli strumenti e i metodi in atto nel settore, mentre si è detto estremamente preoccupato per il futuro di Carife. Sul fronte giudiziario intanto continua il lavoro dei militari della Guardia di Finanza di Arezzo incaricati dal procuratore Roberto Rossi di verificare tutti i finanziamenti sospetti della vecchia banca Etruria. Il filone è quello della bancarotta fraudolenta, nel quale rientrerebbe anche un fascicolo che riguarda il finanziamento per oltre 13 milioni di euro concesso da Banca Etruria ad una società che ora ha sede in provincia di Ravenna. Il finanziamento sarebbe servito per la realizzazione di un porto turistico in una regione del sud che poi sarebbe stato realizzato dalla Copp CMR, l'ex colosso delle costruzioni poi fallito. Nell'ambito dell'inchiesta sulla bancarotta il PM Rossi ha già indagato l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari, almeno due ex consiglieri Giorgio Guerrini e Alberto Rigotti e un funzionario, ma ulteriori sviluppi in questo filone potrebbero esserci nei prossimi giorni, attesi con ansia anche dagli ex risparmiatori.